I ragazzi sono stanchi dei boss al potere, i ragazzi non possono stare a vedere la terra sulla quale crescerà il loro frutto, bruciate ogni loro ideale distrutto, i ragazzi denunciano chiunque acconsenta col proprio silenzio un'azione violenta, i ragazzi sono stanchi e sono nervosi in nome di Dio affanculo e mafiosi, i ragazzi denunciano chi guida lo Stato per non essersi mai abbastanza impegnato a creare una via per chi vuole operare senza essere costretto per forza rubare, per creare una via per gli uomini onesti, per dare ai bambini valori robusti che non crollino appena si arriva ai 18, accorgendosi che questo mondo è corrotto, i ragazzi non credono ad una parola di quello che oggi ci insegnano a scuola, i ragazzi diffidano di ogni proposta, non stanno cercando nessuna risposta ma fatti, giustizia, rigore morale da parte di chi calza questo stivale, i ragazzi hanno il tempo che li tiene in ostaggio ma da oggi hanno deciso di farsi coraggio perché non ci sia un'altra strage di maggio, per riuscire ci vuole cultura e coraggio, cultura di pace, coraggio di guerra, il coraggio di vivere su questa terra e di vincere qui questa nostra battaglia perché quando nel mondo si parli d'Italia non si dica soltanto la mafia e i mafiosi perché oggi è per questo che siamo famosi ma l'Italia è anche un'altra e la gente lo grida, i ragazzi sono pronti per vincere la sfida.